Musica Bella a tutti amici di Battle for Games Io sono Dele e siamo qui oggi in un nuovissimo video su Battlefield 4 In un server only pistol and knife Quindi si può solo pistolare la gente Ah che è questo? Si può solo pistolare la gente Oppure accoltellarla Siamo in conquista larga 1600 ticket Porca miseria quanti sono? Ovviamente vi mostrerò le parti migliori Più divertenti Le Epic Kill And no Avete capito bene? Se volete vedere altri video di questo tipo Lasciatemi un bel like E scrivetelo nei commenti E se avete altre idee di come fare altri video Chiudiamo qua intanto No non si chiude Se avete altre idee per fare altri video Scrivetelo sempre qui sotto nei commenti E ci divertiamo assieme Ovviamente adesso ci sarà tutto il casino su C Porca la miseria Perché il casino su C Perché il casino su C Ci deve essere stamp Parca miseria Ovviamente siamo in Oh salti Siamo su Operational Prison E andiamo a incasinarci Bene a modo Allora Appena esce qualcuno Sono i nostri posti Abbiamo la G18 che è praticamente una fucile Spare Spare una puta Abbiamo la G18 Come potete vedere Senza nessun potenziamento Perché l'ho appena sbloccata Spare a mina E ci diverteremo con questa bellina Con questo gioiellino Prodotto dal Dottor Gelo Di Dragon Ball Perché si chiama C18 No a parte gli scherzi Siamo qui Stiamo conquistando la bandiera D Di Domo Dossola Perché le dadi erano finiti Ok non fa ridere neanche i cani Lerci morti Quindi andiamo avanti Sì ok sì Andiamo a morire Andiamo a morire ammazzati Sì Esploriamo il mondo E andiamo Era un nemico quello Dov'è? Muori L'hanno ucciso E non l'ho neanche colpito Fate come sono Mirato Andiamo giù No stiamo su Andiamo di qua Seguiamo i nostri amici Così se muoiono Ci fermiamo Ehm Mandiamo l'orina Ma scoperta Sì sì Andate 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 Tutto Libero libero Andate Libero Correte Rifugiamoci Qua sotto Perfetto Siamo anche nascosti Non ci colpiscono Conquistiamo anche Mamma mia che squadrona ragazzi Con zero kill Però siamo fortissimi Ho una squadra un po' nabba Anzi no Mamma mia Sub Terzo Incredibile Questo dello che regala Oh c'è un nemico qua Attenzione Scappiamo Che meglio Fuggi Qua c'è un nemico Ok l'ho ucciso io Perfetto Abbiamo 4 di vita Quindi mi rifugiererei Mamma mia Come lo rianima Non si vede niente Lui ha zero di vita Morirà E invece no E invece sì Quello è morto Non ha più la testa Rianimiamo Nel frattempo Diamo un kit medico Così a random Lì ce n'era uno Ok Spariamo a caso Che non si vede niente Lanciamo un bel bengala rosso Così Non si capisce ancora di più Forse Uh Lì c'è qualcuno Sono stato promosso Nel frattempo Incredibile Livello 54 Spariamo a caso Li ferisco Ma non muoiono Demico ucciso Finalmente Dopo 3 ore No Oh Qua ho rischiato di morire Niente Lo ferisco a mina Però non muore Vedo 27.000 Hitmarker A volte Non in questo caso Neanche in quello Lì ce n'era un po' Tipo adesso Boh No Sopressione 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 Sopressiamo tutti Sopressiamoli Non ci sto capendo niente C'ho tutti degli spari Nell'orecchio Non si sente una mazza Porca miseria Tutututututum tanto si medaglia kit medico va bene va bene io sparo a caso un'altra soppressione mannaggia qui ce n'è uno ce n'è uno no mi si erano finite le munizioni ho usato la porca miseria ho usato il fucile perché mi si erano finite le munizioni della pistola rientriamo subito nel server ed evitiamo di fare altre cagate come quella precedente continuiamo sempre qui nel nostro ben amato casino ma siamo sotto adesso l'arma dov'è ok si è bagato battlefield non l'arma ok dopo qualche attimo di bug si torna a fare del macello con subito un assist è un poco sulle scale che c'era del macello visto tipo lui muore l'ho ucciso io perfetto lui muore lui muore ho detto mi ha ucciso guardalo quello dove indicare mi dove indicare moffia patch mannaggia e te mannaggia con la diga il 42 44 attenzione facciamo attenzione amici sportivi la nostra g18 che spacca i culi la prima lì c'era qualcuno adesso non c'è più dove chi c'è esci quello è morto quello anche quasi si è morto è morto anche quell'altro perfetto mentre sargent blub c'è ucciso mannaggia quindi continuiamo a fare del casino qua in mezzo a ci e poi altri due tre minuti poi chiudiamo il video molto sclero anzi no andiamo qua dai andiamo quello a conquistare andiamo a fare dei punti sì però se non vieni a conquistare se poi un cretino cosa vado da solo ok moriremo tra poco tra tipo 5 4 3 2 1 non moriremo è scritto attenzione attenzione la nostra infiltrazione sta funzionando alla perfezione scriviamo magari in chat non a tutti ma solo a noi b attenzione attenzione tutto da solo il dello avanza in classifica tutto da solo sta conquistando il mondo e tutta la mensa attenzione mangiamo tutto panini gratis per tutti panini gratis per tutti ufficiale e adesso andiamo su a a ok perfetto andiamo su a abbiamo scritto anche in chat zitti zitti conquisteremo anche l'altra bandiera il deposito sarà nostro perfetto ci vengono anche le spalle perfettissimo c'ho tutta la squadra dietro io mi nascondo qua dietro ok ok è il deposito è nostro me lo sento mamma mia dello che missione che è andata a fare andata a conquistare tutte entrambe le bandiere guardate un po' come si è messi ce n'è uno lì? no allora quello lì era mi sa che è morto andiamo avanti andiamo kit medico lui scappiamo veloci i primi che arrivano dalla loro base qua bisogna aprire porca miseria apri tu bravissimo grazie grazie spit fee ah non l'ho visti fuggi 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 ci stanno prendendo B oh ecco lì ecco lì muori mamma mia la G18 che potenza abbiamo un tocco meglio ricaricare muori non è morto credevo fosse morto mannaggia vabbè erano in due anche ah no era uno è assistenza squadra vale come uccisione perfetto siamo anche in positivo incredibile vabbè però devo vedere chi è di prima che ricordo che non mi ricordo siamo tornati qua in mezzo al casino perché a noi piace il casino non ho le granate però vabbè spariamo lo stesso oh rianimiamo questo che qua che ci aspetta perfetto tieni anche kit medico andiamo avanti rianimiamo anche questo ah e avanziamo 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 piano piano qua sono morti tutti qua moriremo tutti kit medico perfetto andiamo a prenderci ragazzi incredibile mi sa di no ah mannaggia tutti con la diga il 44 e magari sempre lui no forse sempre lui vabbè facciamo che quando arriviamo a 1000 finisce il video quindi abbiamo altri 70 bei ticchettini da buttare via no qua si muore infatti è morto andiamo a fargli un macello qua su di tu muori se ti prendo anche magari oh ce l'ho fatta ho sprecato tre caricatori in mezzo questo è morto ho lanciato lì un begala non so perché andiamo 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 a lavorare saliamo andiamo con la nostra squadra e qua moriamo e invece no attenzione muori zitto non mi vedono non mi vedono e invece mi hanno visto peccato ok siamo arrivati al 1034 ok abbiamo perso beh ragazzi per questo video è tutto spero che vi sia piaciuto un bel po' di dislike mi raccomando no vabbè scherzo lasciate un bel po' di like se volete se vi va se vi è piaciuto il video commentate scrivendomi altre idee per fare dei video anche su altri giochi che ne so fifa anche se magari non vorrete vedere sempre fifa ma anche su battlefield ma anche su altri giochi quindi altri giochi quindi intanto facciamo dell'altro macello con quest'assist anzi no perché ci hanno riavvievato quindi spariamo un altro po' random questo prima era squadra con me ma vabbè traditore per questo video è tutto quindi condividete il video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto aspetti i vostri commenti qua sotto e lasciate anche un bel post un bel mi piace sulla pagina facebook dove potrete essere aggiornati su tutte le nostre information per questo video è tutto bella